Ciao a tutti, come va? Allora, purtroppo non si parla d'altro, in questi ultimi giorni l'Italia è fuori dal mondiale. Proprio così, incredibile a dirsi, ma l'Italia è fuori dal mondiale. Dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante. Questo è l'unico rammarico che ho. E il rammarico, il dispiacere di Buffon è anche il rammarico, il dispiacere mio e ovviamente dei 60 milioni di italiani più i milioni di italiani sparsi nel mondo. E qualcuno mi chiede, ma Pierluigi come l'hai presa? E come l'ho presa? C'è chi l'ha presa bene. Bene, con filosofia diciamo, c'è chi l'ha presa male. Io ancora sinceramente non so come l'ho presa. Penso che il momento difficile sarà a giugno-luio quando comincerà effettivamente il mondiale e l'Italia non sarà in campo. La cosa complicata probabilmente sarà dover sopportare le prese in giro o, più volgarmente, le prese per il culo da parte di mia moglie e di mio suocero, che mi sfotteranno tutto il tempo, però attenzione io ho in serbo la carta del 7 a 1, per cui, ecco, io penso che sarà una guerra fredda, loro non diranno niente e io non risponderò niente. Credo che andrà così, poi vedremo. Comunque, a parte gli scherzi, vediamo di imparare qualcosa di buono da questo evento negativo, sportivamente parlando, per l'Italia e cominciamo proprio dal termine mondiale. Sì, perché la Coppa del Mondo in Italia si chiama più semplicemente il mondiale, oppure al plurale i mondiali. Quindi l'Italia, come ho detto all'inizio, non sarà ai mondiali, oppure l'Italia non parteciperà al mondiale. E a proposito di mondiali o di mondiale, e riprendendo anche un po' le parole di Gigi Buffon, lui parla di una rilevanza sociale, no? Del mondiale. In effetti, e tutti gli italiani hanno nella memoria pensieri positivi associate al mondiale. Perché? In Italia il mondiale coincide con l'inizio dell'estate, con l'inizio della bella stagione, con un periodo di vacanza, di ferie, quindi tutti gli italiani hanno nella loro memoria, di bambini, di ragazzini, ma anche, insomma, da adulti, pomeriggio, le serate, passate davanti al televisore o davanti ai maxischermi, in piazza, con gli amici, con la famiglia, proprio a guardare la nazionale, ok? Quindi evoca ricordi positivi, no? Nella mente degli italiani. E purtroppo nel 2018 questa cosa mancherà. Altra cosa interessante da sapere, parlando adesso della squadra dell'Italia, è che nessuno in Italia chiama la nazionale azzurra, ok? A selezione italiana è chiamata nazionale, ok? Quindi la nazionale. La nazionale gioca stasera, la nazionale giocherà domani, domani andrò a vedere la nazionale. Nessuno la chiama azzurra e eventualmente si può chiamare la squadra azzurra. Quindi in televisione, alla radio, i mezzi di informazione, di tanto in tanto, chiamano la nazionale la squadra azzurra. Ma c'è sempre la squadra prima, ok? Non è mai l'azzurra da sola. Un altro modo in cui vengono chiamati i giocatori italiani è gli azzurri, ok? Quindi gli azzurri giocheranno stasera, gli azzurri giocheranno domani, gli azzurri hanno vinto contro la Germania, ok? Quindi gli azzurri. E a proposito di azzurri, gli azzurri sono i giocatori della nazionale maggiore. I giocatori invece della nazionale under 21, quella che se non sbaglio qui in Brasile se le stanno subvinci, sono chiamati azzurrini, ok? Come se fossero piccoli azzurri. Quindi abbiamo gli azzurri della nazionale maggiore e gli azzurrini dell'under 21. Quindi dovendo incitare la nazionale italiana non diremo mai avanti azzurra o vai azzurra o forza azzurra. Il modo corretto, il modo per incitare la nazionale è forza azzurri, forza azzurri. Oppure semplicemente forza Italia. E a proposito di colori, una cosa curiosa che forse non sapete è che i giocatori della nazionale brasiliana in Italia sono chiamati i verde oro. Quindi associando i due colori, il verde e l'oro o il giallo, quindi della bandiera della maglia del Brasile. E quindi la nazionale brasiliana è chiamata la nazionale verde oro. Quindi, riepilogando, la Coppa del Mondo è chiamata mondiale o al plurale i mondiali. La squadra italiana di calcio è chiamata la nazionale. E per incitare l'Italia diremo forza azzurri o forza Italia. E per finire, andando un po' col pensiero ai mondiali 2018, forse il più grosso problema che ho è quello di dover giustificare a mio figlio l'assenza dell'Italia. Matteo mi chiederà sicuramente, papà, ma dov'è l'Italia? Ecco, io effettivamente non so ancora cosa gli risponderò. Sicuramente gli dirò che c'è stato un tempo, non molto lontano, pochi anni fa, in cui c'era l'Italia di Del Piero, l'Italia di Totti, l'Italia di Pirlo, l'Italia di Grosso. E magari vi farò vedere qualche immagine su YouTube. Alla prossima! Ciao!